Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del mercoledì Sensei Awakening Aggiornamento che nel mio caso arriva di giovedì, o meglio video che arriva di giovedì per colpevole ritardo Lo sto registrando alle 6 del mattino ragazzi, quindi apprezzate lo sforzo In questo caso ieri è stata una giornata devastante, non ho fatto in tempo a registrare nulla Vedrò di recuperare quest'oggi, mi piacerebbe dire nel frattempo ho guardato meglio che cosa è cambiato dall'arco dell'aggiornamento Ma no, in realtà praticamente non ho visto quasi nulla da ieri a oggi Però intanto apriamo con l'evocazione celebrativa, carta S non registrata Per chi ancora non sapesse come funziona questo tipo di summon, di evocazione Semplicemente il primo Saint S che andrete a droppare con le gemme limited Sarà un Saint non doppione, quindi uno di quelli che ancora mancano nel vostro codex Non sono però presenti all'interno dell'evocazione tutti i Saint, mancano Evil Saga, quindi Gemini Malvagio Arayashiki Shaka, Arayashiki di Virgo Andromera dell'aldilà Andromeda Shun, Ades Shun Chiamatelo come volete Canon di Gemini Shin o Shion nella sua versione Spectre Shijima di Virgo Scorpio Divino, Milo DC Death Toll, che vabbè è uscito settimana scorsa E Pandora comandante dell'aldilà Ah, anche Pegasus Frecciadora e Maiora del Pavone Ma quelle sempre perché tanto sono ottenibili Con le Shard nel mercato Quindi quelli non ci sono a prescindere Quindi al di là di questi Saint che vi ho elencato Tutti gli altri Saint non doppioni Potete trovarli all'interno di questa evocazione E il primo Saint che troverete sarà sicuramente un non doppione Cosa succede se voi avete tutti i Saint già disponibili all'interno di questa evocazione? Semplicemente entrando nelle evocazioni e cliccando sull'icona di sinistra Potrete riscattare un tomo abilità che fa sempre comodo Sia per potenziare i Saint che avete adesso Che magari metterlo da parte per i Saint che pullerete più avanti Alchimia del Continente di Aum Quarta stagione Carina l'alchimia però io in realtà non la utilizzo così mai Vabbè offerte speciali periodo dal 19 al 24 Hypnos Tempo Libero Una nuova skin di Hypnos ottenibile tramite il relativo evento Giovane Julian La versione Fortuna che almeno l'hanno tradotto bene Avevo paura che gli dessero una traduzione stupidissima Comunque Giovane Julian La versione di Nettuno da bambino Anche questo ottenibile tramite il relativo evento Nuovo Cusmo Nuovo Cusmo Nuovo Cosmo Kun Aghero Disponibile soltanto nello store e nel negozio dei Cosmi Corpo a corpo PvP Quello però in arrivo questo fine settimana Quindi questo sabato e questa domenica E poi anche la settimana prossima Perché il PvP 1000 dura sempre due settimane Esplorazione Aura dell'ardilà Bella Bella sta bussola Mi piace Ok andiamo direttamente Prima cosa a vedere l'alchimia Che tanto è abbastanza facile Voi sostanzialmente selezionate tre oggetti Fra quelli che avete più a disposizione Che magari non ve ne fate niente E praticamente il gioco in cambio Vi da un oggetto randomico Fra quelli che vedete Anzi pardonne Due oggetti randomici Tra quelli che vedete qui A disposizione In genere Il più delle volte Si dà via roba inutile Per ottenere altra roba inutile Però vabbè Comunque è buono Perché c'è anche la possibilità Di ottenere gli skill tom shard Che schifo Non fanno Allora Andiamo adesso nel Nei nostri eventi Anteprima ricompensa Del dolce sogno Ok Sappiamo che è l'evento Per ottenere la skin La skin di Hypnos Si devono aprirà Come quelle che fecero per Se non ricordo male Era Pandora forse Che aveva una skin Di questo tipo Non mi ricordo Se era Pandora O Artemide forse Con un evento del genere Vabbè Abbiamo un dono giornaliero Intanto Che vediamo Che riscattano Le città delle ricompense Poi per aprire Le varie caselline Abbiamo bisogno Di queste pietre Di questi Quadrifogli Rosa Io Non li compro Mai Nella vita Con i cuponi Anche perché Ricordo bene Che per Artebide Me le ha dato Tipo qua Al penultimo Potrebbe essere Qualunque di questo Di queste carte Che vedete Però nel dubbio Mi danno a gratis Bene Altrimenti ragazzi Penso che Hypnos E la sua skin Se la possa tenere Anche così com'è In compenso Nell'esplorazione Aula dell'aldilà Che è un evento Alla quale Accediamo semplicemente Facendo login Otteniamo queste pietre Le pietre dell'aldilà Che possono essere Utilizzate qui Nell'aura Dell'aldilà Ogni azione Ci costa 30 punti Di stamina E abbiamo bisogno Appunto Una delle pietre Muovendo la bussola E facendo Inizio e indagine Andiamo catapultati In una battaglia Che ci darà Una ricompensa Tramite la quale Otterremo dei punti E con i punti Che vedete In basso Progressi Esplorazione Possiamo ottenere Altre ricompense Ancora Qua schifo Perché tanto La parte della battaglia E tutto quanto Non è che c'è molto In realtà Da vedere Poi Sconto speciale Il negozio Che c'è stato Introdotto All'inizio Spesa totale Rimborsi Ricompense Spendendo i vari Cuponi Il gioco Evocazione celebrativa Le ricompense Per le summon avanzate Appunto Nell'evento Di questa settimana Le missioni giornaliere Per i prossimi Tre giorni Vabbè Ormai due Visto che uno Praticamente L'ho bello Che è zompato Sono legate All'epic ruin Alle rovine epiche Completa il settimo livello In solitario Almeno una volta al giorno Completa un qualunque livello Delle rovine epiche Cinque volte al giorno In gruppo E livella Di cinque livelli Appunto Un saint Una volta al giorno Consiglio come sempre Di farlo Con i tomi viola Che tanto sono quelli Che bene o male Prima o poi Vi servono per potenziare I saint stessi Per il resto Non c'è praticamente Nulla qui Andrei direttamente A vedere Il nuovo cosmo Koon Eccolo qui Il Koon Attendavamo Un cosmo Che fosse particolarmente Buono Per chi gioca Con saint Abbastanza lenti Direi che non è questo Vabbè Ad ogni modo Cosmo leggendario Quindi il cosmo Centrale Effetti attributo Principale Bonus Ai punti Salute Effetto speciale Guadagna due punti Di energia Quando un alleato Muore Soltanto un effetto Per squadra In questo Soltanto un effetto Per squadra Non capisco Se si attiva una volta Sola E quindi Basta O Intendono tipo Una volta per turno Presumo che Essendo per squadra Intuisco Che si attivi Una volta sola Ok Buono per chi Gioca con Saint Tipo Milo Milo Con l'armatura divina Piuttosto che Afrodite Cioè tutti quei Saint Che effettivamente Attaccano per ultimi E hanno bisogno Di punti Energia Perché li consumano Loro stessi Durante Il Il loro turno Però effettivamente Per tutti gli altri Al momento Faccio fatica A vederne Un'utilità Particolare Ad ogni modo Così è Ripeto Al momento Si può trovare Solo nei vari Nei vari store Ci vorrà qualche settimana Prima che venga Aggiunto Ai nostri eventi Brevissimamente Vi faccio vedere Nell'evocazione Celebrativa Lo vedete Qui a Qua Ecco Sotto di me Lo vedete Come vibra Il tomo blu Quando voi avete Già tutti i senti Disponibili All'interno Di queste vocazioni Vi basta Semplicemente Cliccare qua Non dovete spendere Neanche una gemma Non fate Come ho fatto io Nelle ultime Centomila volte Praticamente Che 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 c'è stata Questa Questa evocazione Andate direttamente A riscattare Il tomo Prima di chiudere Il video Vi invito Come sempre A seguire Su Huawei Video Sulla piattaforma Huawei Video Il canale AppGallery Games E o Tramite il quale Potete trovare Anche i miei stessi video Quelli che trovate Anche qui Scusa il microfono Anche qui Su Youtube E la pagina Facebook La fanpage Facebook AppGallery Fans Italia Tramite la quale Invece Vengono pubblicate Offerte Relativi A tutti i vari Giochi Disponibili Su AppGallery Che è lo store Già precaricato Sui dispositivi Huawei Honor Inoltre Per quello che riguarda Sensei Awakening Vi ricordo Che è sempre attiva La nuova promo Che permette Di ottenere Dei bonus A scalare A scalata Diciamo così Tramite la quale Potete arrivare Fino a 100 euro In coupon E un 35% Di rimborso Huawei Il 20% Di rimborso De Huawei Point È già attivo Di default Su tutti gli acquisti Effettuati Su Sensei Awakening Nei giorni Da mercoledì Fino a venerdì Alle 11 del mattino E questo vale Praticamente Per tutte le settimane Mentre invece Le altre ricompense I coupon E l'ulteriore 15% Varia A seconda Della somma Che voi avete speso All'interno del gioco Mensilmente Quindi Vengono calcolate Le spese Che per adesso Avete già fatto Nel mese di maggio E quelle che eventualmente Andrete Andrete a fare Anche Anche adesso Offerta Riservata Per tutti coloro Che hanno naturalmente L'account Sensei Awakening Collegato Con l'account AppGallery Se sul vostro Telefono Sul vostro dispositivo Android Non è presente AppGallery Sappiate che comunque Potete tranquillamente Scaricarlo È compatibile Con il 90% Dei dispositivi Android Attualmente sul mercato E come sempre Vi lascio il link In descrizione al video Quindi buona ragazzuoli Dai per oggi era tutto Video abbastanza breve E semplice Dato che non ci sono Nuovi Saint Da esaminare Neanche Repair Clot Particolare Spero che il video Nella sua brevità E semplicità Comunque vi possa essere D'aiuto E vi sia piaciuto Pace belli Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima